Mi chiamo Stefano Mancuso, sono professore ordinario presso l'Università di Firenze e dirigo il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale che ha sede a Firenze, a Berlino, a Parigi, a Pechino e a Kitagyushu in Giappone, ma la cui sede principale è quella di fondazione qua a Firenze. Dirigo un centinaio di ricercatori che si occupano delle piante da un punto di vista un po' particolare, cioè le studiano per le loro caratteristiche meno conosciute, soprattutto per le loro capacità cognitive, cioè su come le piante riescono a risolvere i problemi. Parallelamente ho anche fondato, insieme a degli altri ricercatori, uno spin-off universitario che si chiama PINAT che si occupa di mettere in pratica e quindi di traslare in operazioni reali una parte delle ricerche che vengono effettuate all'INV. L'INV fa la parte teorica e PINAT si preoccupa di mettere in pratica quello che viene scoperto. Mi chiamo Antonio Girardi, faccio parte di PINAT, che è un team multidisciplinare composto da botanici, designer e architetti. Noi lavoriamo con l'INV, diretto da Stefano Mancuso. Quello che noi facciamo è di accedere alle ricerche scientifiche fatte dal laboratorio di ricerca e di capire come sono fatte le piante, come funzionano, come possono aiutarci e portare i benefici che le piante possono generare nell'ambiente costruito, quindi nella città, nella casa, negli uffici, in generale negli spazi dell'uomo. Io sono architetto, poi c'è un altro architetto che si chiama Cristiana Favretto. Ci sono dei botanici e agronomi che sono Camilla Pandolfi, Elisa Zarello e Elisa Masi. La storia di come è nato PINAT è una storia secondo me interessante perché il gruppo nasce nel 2014. Io e Cristiana Favretto eravamo andati a Roma a portare una nostra installazione che si chiama Zelly Fish Farm ed era un prototipo di una serra galleggiante che può dissalare l'acqua di mare e che quindi potrebbe avere una rilevanza per produrre cibo anche in posti dove l'acqua non è disponibile. Siamo andati a presentare questa installazione un po' in tutta Europa ma in particolare siamo approdati a Roma dove c'era Stefano Mancuso che stava presentando il suo primo libro e c'è stata immediatamente una simpatia e una stima reciproca. A lui il progetto di questa serra galleggiante è piaciuto tantissimo e ha detto dobbiamo farlo insieme, venite a trovarmi in università e poi ha rilanciato, ma perché fare solamente una serra galleggiante quando possiamo costruire un team di progettazione che si occupa di tutti questi temi che legano le piante con il design e così abbiamo fatto. Il più grande progetto che abbiamo fatto è quello di costruire un team multidisciplinale che funziona, cosa che non è semplice perché naturalmente si viene tutti da background diversi, ognuno ha delle aspettative diverse, delle priorità diverse. Ci sono tre o quattro persone che si occupano delle piante come me, ci sono persone invece che si occupano di design, architetti, ingegneri, ci sono competenze molto composite perché la nostra idea di fondo fin dall'inizio della creazione di Pinat è sempre stata questa, traslare le ricerche in atti pratici però sempre tenendo presente la bellezza, il design e l'estetica come linea guida di qualunque oggetto creassimo. La fabbrica dell'aria è uno degli esempi di questo passaggio di informazioni fra il Linv e Pinat, l'idea è nata da una serie di studi che stavamo facendo negli anni scorsi sulla qualità dell'aria, sappiamo benissimo che la qualità dell'aria in città non è proprio straordinaria, c'è un inquinamento crescente, quello che è meno noto è che l'inquinamento indoor, quindi all'interno degli edifici è molto superiore a quello all'esterno, bisogna considerare che rispetto all'inquinamento esterno quello interno è due o tre volte superiore. Avevamo visto che le piante avevano delle abilità straordinarie da questo punto di vista, è fondamentale mettere quante più piante possibile negli interni, questo va bene, ma se uno le mettesse e basta ne dovrebbe mettere davvero tantissime per poter depurare l'aria, allora abbiamo studiato un sistema che rendesse più efficiente questa depurazione. La fabbrica dell'aria nasce da questi primi studi sulla capacità delle piante di disinquinare l'aria degli interni, a questo abbiamo ovviamente associato una parte estetica, una parte artistica di cui siamo come Pinat davvero molto orgogliosi perché le piante hanno anche questo di straordinario, non soltanto sono in grado di fare delle cose che nessun altro essere vivente è in grado di fare come per esempio depurare l'aria e regalarci la vita, sono anche straordinariamente belle, cioè non c'è un posto in cui l'aggiunta di piante ne peggiori l'estetica, dove le si mette l'estetica ne guadagna sempre. La fabbrica dell'aria la si sarebbe potuta fare in una maniera diciamo molto più asettica, il rapporto con le persone non sarebbe stata la stessa cosa, il design e la bellezza in generale hanno questa grandissima forza emotiva proprio di spingerti anche ad approfondire le conoscenze, per cui io immagino che molte delle persone che hanno visto e che vedranno la fabbrica dell'aria un po' con le informazioni che sono qui riportate, un po' perché interessate all'argomento spinte anche dalla bellezza dell'oggetto si cominceranno a domandare ma a che serve? Ma davvero le piante sono in grado di fare questo? Credo che l'ambiente di manifattura tabacchi sia veramente un ambiente ideale dove proporre questo genere di progetti. Non appena ci hanno parlato del progetto manifattura ci è sembrato molto interessante questa idea di utilizzare l'arte, la creatività e la innovazione scientifica come strumento per generare un seme di rigenerazione a scala urbana. Questo progetto è una serra che è come un grande polmone verde, quindi proprio una fabbrica dell'aria, nel senso che l'aria viene presa dall'ambiente interno, dagli ambienti degli uffici dove è stata installata la serra e viene depurata attraverso le piante da tutti gli inquinanti aerei. Perché una cosa che non si conosce ancora bene è la bassa qualità dell'aria interna agli ambienti. Anche in termini di sentire comune c'è un'attenzione nella qualità dell'aria urbana, ma meno attenzione nella qualità dell'aria interna agli spazi, che invece è tendenzialmente più inquinata rispetto all'aria della città, perché è la stessa aria che viene prelevata dalle strade, dalle piazze, che poi viene addizionata di tutti gli inquinanti che stanno negli ambienti interni. Quindi i detergenti, le polveri, i materiali edilizi e così via. Di conseguenza appunto la nostra idea è stata quella di creare un grande depuratore botanico che utilizza le piante per depurare l'aria. Per migliorare la qualità dell'aria interna generalmente cosa si fa? Si areggiano i locali, si utilizza la ventilazione forzata, però la ventilazione forzata prevede il fatto di importare grandi volumi di aria dall'esterno che deve essere climatizzata, deve essere riscaldata o raffrescata. Nel nostro caso invece si è detto perché non riciclare l'aria degli spazi interni, farla passare attraverso un filtro e rimetterla negli ambienti completamente depurata. A differenza di un filtro tradizionale che è di fatto un setaccio con delle maglie entro cui si fermano gli inquinanti, un filtro botanico è molto migliore, non arriverà mai a saturazione perché gli inquinanti vengono trattenuti dal terreno e dalle foglie delle piante e poi vengono assorbiti dalle piante e diventano una sorta di fertilizzante, entrano a far parte del ciclo di vita delle piante. Di conseguenza è come se stessimo costruendo un'economia circolare in cui gli scarti, quello che noi produciamo, cioè gli inquinanti aerei, diventano un nutrimento per le piante. Noi provvediamo attraverso la serra a mantenere le piante in vita, a farle prosperare e loro provvedono a generare dei benefici per noi di ritorno. Tutte le piante hanno la caratteristica di assorbire almeno in parte gli inquinanti aerei. Ci sono piante più o meno efficienti e tendenzialmente l'efficienza di una pianta è direttamente proporzionale alla sua superficie fogliare, proprio perché l'assorbimento degli inquinanti avviene nella parte aerea, però noi facciamo passare anche l'aria attraverso il terreno e quindi utilizziamo anche le radici come punto di assorbimento degli inquinanti. In questo caso abbiamo scelto anche delle piante che resistano bene ad un ambiente interno perché comunque uno dei problemi di lavorare con le piante è quello della manutenzione naturalmente. Quello che noi facciamo poi è di creare un ambiente adatto alla crescita delle piante, quindi abbiamo costruito un'irrigazione automatizzata, un impianto di luce artificiale per permettere appunto alle piante di crescere. Abbiamo utilizzato delle lampade artemide che sono uscite da poco, che hanno la specificità di avere una luce d'ambiente, quindi una luce più rivolta a mettere in luce lo spazio architettonico e una luce invece più dedicata alle piante, che quindi ha anche una colorazione. Sulle frequenze che servono di più alla fotosintesi delle piante ci sono anche delle luci che possono appunto variare nella colorazione e che dipende in base al tipo di momento di crescita che la pianta ha. È la prima installazione che facciamo della fabbrica dell'aria, per questo ci siamo particolarmente affezionati, ma la nostra idea è di rendere questo esperimento scalabile, cioè in piccolo, quindi creando delle mini fabbriche dell'aria, la cui funzione sarebbe quella di depurare in tempi estremamente rapidi all'interno, per esempio, di appartamenti. Un cubo della grandezza di mezzo metro cubo piena di piante in cui l'aria è costretta a seguire un particolare percorso e all'uscita è perfettamente pura, quindi riuscirebbe a depurare l'aria di un appartamento di medie dimensioni. In grande invece l'idea della fabbrica dell'aria è quella di poter essere di aiuto anche per depurare l'aria delle città. In alcuni luoghi della Cina, ad esempio, dove esistono dei problemi di inquinamento veramente molto alti, è stata iniziata la costruzione di enormi torri, la cui funzione è proprio quella di disinquinare, quindi di purificare attraverso dei procedimenti chimici e fisici l'aria della città. È una cosa che ovviamente ha dei costi energetici enormi, che non è sostenibile da un punto di vista ambientale. Ora, immaginiamo invece di poter utilizzare le piante per fare questo, di poter concentrare la capacità purificatrice di ettari ed ettari di parco o di bosco in una zona molto ristretta. Ecco, questa è un'idea che si potrebbe portare avanti. Secondo me quello che è interessante di questo tipo di progettazione è il fatto che si cerca una sinergia tra uomo e piante, cioè si costruisce un sistema per cui uomo e piante possono vivere insieme in simbiosi. Immaginatevi costruire una fabbrica dell'aria, ad esempio, all'interno di un capannone dismesso, come ce ne sono tanti nelle nostre città, potrebbe diventare veramente un progetto a scala urbana, che quindi contribuisce a migliorare l'edificio, ma contribuisce anche a migliorare la qualità dell'aria esterna, perché per esempio potrebbe essere pescata dai bordi delle strade o dove c'è aria particolarmente inquinata, i parcheggi sotterrani, eccetera, e potrebbe essere reimmessa negli spazi pubblici dove la gente si ritrova. Il progetto di Manifattura Tabacchi è un progetto straordinario in quanto interviene su una zona molto rilevante di città, pur essendo vicino a un parco, che è il Parco delle Cascine, gravita su un'altra zona della città in cui non c'è tanto verde. Non c'è stato negli anni una grande attenzione al problema ambientale. Oggi è praticamente impossibile pensare di ristrutturare, ricreare, rendere di nuovo fruibile per la cittadinanza una zona di città senza pensare alla sua sostenibilità. La Manifattura Tabacchi ha una serie di potenzialità incredibili. Sicuramente la fabbrica dell'aria potrà essere di grande utilità, potrebbe essere ampliata ad altre zone, ad altri ambienti, ma soprattutto quello che potrebbe essere importante per la Manifattura Tabacchi sarebbe la copertura, tanto maggiore possibile, delle superfici con le piante. Stiamo lavorando a un concept di progetto che chiamiamo Urban Jungle, che prevede una radicale simbiosi tra piante e ambiente costruito e quindi la copertura totale degli spazi minerali, degli spazi architettonici con le piante attraverso tetti verdi, attraverso facciate verdi, attraverso le coperture degli spazi aperti. Questa è un'idea che stiamo portando avanti con il Comune di Firenze, il Sindaco si è dimostrato entusiasta dell'idea e anche con altre municipalità al di fuori dell'Italia, per esempio Berlino, l'idea è quella di ricoprire di verde delle intere zone della città. La Manifattura Tabacchi, proprio per la sua conformazione, sembra fatta apposta. Non è probabilmente possibile pensare di coprire tutto quanto di verde, ma coprire una gran parte delle superfici esterne sì. Immaginiamo per esempio la piazza della Ciminiera, all'interno della quale è stata creata anche la fabbrica dell'aria. Proviamo per un attimo a immaginare che tutte le superfici verticali che danno su questa piazza siano coperte di verde. Ecco che di colpo un luogo che prima era completamente mineralizzato, completamente impermeabile, diventa un luogo rinaturalizzato, un luogo in cui il verde e le piante sono in grado di assorbire anidride carboniche inquinanti, dove possono svolgere il loro straordinario ruolo sociale, perché questa è una cosa che noi non immaginiamo mai. Eppure è bastato vedere anche quello che è successo durante l'inaugurazione dell'edificio B9. La presenza delle piante diventa un punto focale. Le persone tendono ad avvicinarsi alle piante, a stare lì, a socializzare e quindi immaginiamo un cortile completamente coperto. Sarebbe una cosa straordinaria e poi non ultimo i benefici sia per la psiche che per la salute umana, che sono ambedue straordinari. Partiamo da un concetto generale. Noi addirittura dipendiamo dalle piante. Non è possibile immaginare una vita animale, quindi anche umana, senza le piante. Tutto quello che noi respiriamo, tutto quello che noi mangiamo, viene dalle piante in prima istanza. Quindi senza le piante non ci sarebbe addirittura vita sulla terra. Questo per inquadrare l'importanza di questi esseri viventi per noi. I loro effetti sulla nostra vita, sulla vita degli esseri umani è incredibile. Sono in grado appunto di assorbire l'anidride carbonica e l'anidride carbonica è il principale elemento che provoca i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale. Sono in grado di rimuovere gli inquinanti, gli altri inquinanti dall'atmosfera. Uno dei benefici più importanti è l'effetto che le piante hanno sulla vita sociale delle persone. Sappiamo perfettamente che le piante sono in grado, lì dove sono presenti, in ambiente urbano, di ridurre i conflitti sociali e di creare comunità. Anche semplicemente il prendersi un po' cura delle piante insieme, ma anche senza che si faccia assolutamente nulla. Per il fatto stesso che esistono le piante, le persone tendono a concentrarsi vicino alle piante e quindi stare insieme. Poi ci sono gli aspetti che riguardano ogni praticamente momento della vita umana. La criminalità sembra straordinario, ma nei luoghi dove ci sono tante piante i delitti contro la persona sono molto più bassi. Il numero di persone affette da depressione o di suicidi o di disagio psichico in generale in presenza di piante è molto, molto minore. E poi ci sono gli effetti proprio sulla salute fisica. In presenza di piante, per esempio, la rinsaldatura del femore impiega circa la metà del tempo, così come praticamente qualunque tipo di patologia sia stata presa in esame fino ad ora da una letteratura scientifica sterminata, dimostra che nella presenza delle piante ha sempre un ruolo molto benefico su queste. Una volta che sappiamo questo, una volta che sappiamo che non c'è veramente una sola controindicazione, c'è da chiedersi come mai le nostre città non sono coperte di piante. Io credo che in parte dipenda proprio dalla nostra idea di città. Noi abbiamo un'idea della città che è rappresentata bene da quei quadri che mostrano la città ideale. Questa città ideale di solito è un luogo completamente costruito, delle piazze, degli edifici monumentali, ma senza un filo d'erba, senza una sola pianta. Questa è un'idea molto antica che nasce da quando noi abbiamo messo la prima capanna e poi abbiamo subito messo intorno un muro, una straccionata, una palizzata per difenderci dalla natura. Oggi questa cosa non è più possibile, non è immaginabile. Oggi l'unica idea sostenibile della città è quella di una città in cui le piante riprendono il ruolo che avevano normalmente nella natura, quindi in cui coprono qualunque cosa.